Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video del Dust & Rust Garage, io sono Matteo, lui è Thomas e oggi abbiamo un Volkswagen Golf R un po' rabbioso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, oggi siamo qua con questa Golf R, la illustreremo molto velocemente dal punto di vista estetico e motoristico. Passiamo subito alla sospensione, monta una molla ST Suspension con cerchio da 20 o Z superturismo e adesso passiamo al motore. Quest'auto sviluppa 300 cavalli di serie, adesso noi ne abbiamo l'incirca 400, le modifiche a portate sono un intercooler airtech, un'aspirazione completa Volkswagen Racing, una linea di scarico totalmente in acciaio inox munita di valvole e una mappatura by Revo Stage 2 Plus. Ciao ragazzi, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale, ciao a tutti e al prossimo video.